Mi presento, io sono Beto Ragazzoni del Tour Operator I Love Museums, Timmer Bortoloso. Se devo essere un equivoco perché noi praticamente siamo, lei deve essere, credo, il portiere del museo. Come sono io? Il portiere del museo. Io sono custodio. Noi siamo qui per visitare il museo, quindi siamo nel giusto, quindi noi ancora entriamo. No, 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 no. Che freddo! Dopo una certa ora qua al museo non ci puoi incontrare. Vieno, guardi, io ero il film. Qual è il tuo film? Professor, grazie. Sono professore Esedino Mugitim, responsabile di questo museo. Qual è il problema, Wiener Berg? Sono in cani e vogliono venire dentro. Hanno detto che c'è arrivato un fax che io devo aprire prima, ma non posso aprire prima. Aspetta, Wiener, parlo io. Ma non abbiamo. Noi siamo molto ospedali come nella tradizione esistiana. non sapevamo che venivate, ma noi faremo modo che voi possiate vedere il nostro museo. Allora possiamo visitare il museo. Ma potete notare che il vero animale non è quello che voi vedete qua in pagliato? Come si è? Eh, professore. Il vero animale è sotto i vostri piedi. Guardate. Ehi ci può dire qualcosa a proposito del soffio vitale. Professore. Mi interessa davvero la mia teoria sul soffio vitale. Beda. Vedete questi animali che sono stati abbassavati, sono stati abbassavati con questo natron. Il natron ha un ass che a volte con il tempo fa fuori uscire dal metanolo e il metanolo è un ass olucinoso. Attenzione. Tcription one day. Telef! Hall! Vedete, saliamo. Vedete? E questo è un museo di soluzione. È veramente particolare. Hai chiuso la vasca della... Deve ancora finire di fare la doccia? Sì, quella foca. Guardate che cosa sono! Sentiteci! Passare, passare! Sentite noi! Seguiteci! Vedete! Vedete?! Widmer! Via 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 via! Andiamo, Widmer! Andiamo via! Sala! Sala! Oh!